Mi sembra rispettate, intanto per me è un grandissimo piacere essere qui per due motivi, essere qui con Matteo ed essere qui in una rassegna importante come profumo di carta che veramente qualifica in modo culturalmente autorevole questa splendida cittadina di Isola Vicentina che io ricordo sempre legata a un grande autore come Pino Sbalchiero, uno dei libri più belli sulle nostre radici venete, sicuramente il libro della Tellagra di Pino Sbalchiero. Fatta questa doverosa introduzione di circostanze che sentivo dettata dal cuore, vista la corposità del libro, la serietà dell'autore, io ho preferito scrivermi una traccia, quindi non divagare ma andare al sodo, come si suol dire, durante la quale sono già d'accordo con Matteo, ogni tanto mi fermerò per passargli la parola su due o tre temi che ritengo di fondamentale importanza nel libro che andiamo ad affrontare questa sera, ma sono anche naturalmente consapevole del fatto, del profondo feeling che ormai si è instaurato fra Matteo e il pubblico di Isola, per cui sono assolutamente certo che avrete delle domande da rivolgergli e credo che sia opportuno poi riservare dello spazio a questo. La corona del potere di Matteo Struckel è un libro in cui sbaglieremmo a considerare pure appendici due liste fra cui è contenuto. La prima è quella dei personaggi del romanzo, che è il quattordicesimo, date le stampe dell'autore, padovano di 47 anni, approdato felicemente al romanzo storico dopo esordi contrassegnati anche da felici frequentazioni del mondo dei fumetti. Ebbene, penso di non sbagliarmi, i personaggi accreditati della corona del potere che di un'annunciata tetralogia dedicata da Struckel alla dinastia dei Medici è il secondo titolo, e ricordiamo che è pubblicato quattro anni dopo il primo una dinastia al potere che ha vinto il premio Bancarella nel 2017, questi personaggi sono 34, suddivisi tra Sforza di Milano, Medici di Firenze, Aragonesi di Napoli e Stense di Ferrara, e figure non di secondo piano della Repubblica Serenissima. Tutti li troviamo inizialmente collocati nel contesto di un annus horribilis, il 1494, degno, quanto a guerre e sciagure del più vario tipo, di gareggiare con questo 2020. Un orrore dovuto agli effetti dell'ennesima invasione che, oltre a devastare l'Italia, la dilagna in una sorta di guerra civile antelitteram, fra quanti si schierano a fianco degli invasori stessi, gli sforza i medici per l'appunto, e quanti al contrario gli osteggiano, a cominciare dai Borgia, insidiatisi con Papa Alessandro e figlio Cesare, ai vertici del potere vaticano. Avendo ovviamente cura di collocarvi nei debiti modi anche la loro diabolica, nota, figlia e sorella, Lucrezia. Con inevitabili cambi di casacchi in corsa e spettacolari capovolgimenti di fronte, dispiegati lungo le quattro parti e i 113 capitoli del romanzo. Quindi abbiamo di fronte un autentico romanzo storico, come il lettore si aspetta di trovare, a fargli compagnia, soprattutto nelle serie d'autunno, che sono le più indicate per la lettura di questo tipo. Un romanzo storico con la sua bella lista di personaggi, a cui fare piacevolmente riferimento, ogni qualvolta si vuole tornare indietro per ricordarsi di chi si tratta, quali relazioni hanno, e quindi c'è tutta una contestualizzazione che trovo molto felice e molto appropriata. Ora andiamo anche a compulsare le tre pagine dei ringraziamenti finali, nomi e cognomi citati per esteso e io qui ne ho contati 224, dove si spazia per esempio dallo psichiatra scrittore di culto inglese Tim Willocks, amico di Matteo, autore di una trilogia rinascimentale incentrata sul personaggio di Mattias Stanoiser. E poi una lista di nomi straordinari, io ho ammirato moltissimo quello dei traduttori, Bozena Topolska, per esempio, la traduzione polacca, sembra meritare quasi di per sé un'ospitalità in un qualche romanzo. Elenco a cui bisogna aggiungere le citazioni di squadra, come quella destinata naturalmente al fondamentale ruolo avuto dall'editore Newton Compton, e dove non va ovviamente considerata la moglie Silvia a cui l'opera è amorevolmente dedicata. Si profilano dunque, tra queste due liste, uno riguardante il passato e l'altro riguardante il presente, genealogie in mani, discendenze familiari sterminate, intrecci secolari non necessariamente intelligibili. Già, perché come se questa composita platea di congiunti, complici, amici, collaboratori e colleghi, che in fondo rappresentano il suo vario pinto insieme l'estesa tribù dei lettori di Struckel, ponesse assieme a lui delle puntuali, fascinose, a volte inquietanti domande, non tanto e non solo ai personaggi del romanzo, ma alla storia e alle storie da cui proveniamo. Intendendo con la prima, la storia, quella studiata anche a scuola, di un'Italia rinascimentale suddivisa fra signorie magnifiche, ma non così potenti da impedire le periodiche invasioni degli eserciti stranieri, in questo caso le armate francesi, con annessi mercenari svizzeri, guidate dall'avido e spietato Carlo VIII. E con le seconde, le storie solo apparentemente minime e ininfluenti, che in realtà però contribuiscono in modo decisivo e inaspettato a quell'impescrutabile e magmatica trama che è il nostro passato. Il passato che in qualche modo, oserei dire, ci conforta, soprattutto in momenti in cui, come questo, fatichiamo a vedere il futuro di fronte a noi. E non è forse un caso che negli ultimi anni la letteratura, sia di autore che di genere, si rivolga sempre più frequentemente al passato, alle radici, a luoghi da cui veniamo, a stirpi da cui proveniamo, nel DNA, nella cultura, nelle influenze culturali. E quindi io volevo chiederti, Matteo, quale ruolo ha il passato nella tua vita, nella tua esperienza di autore? Allora, innanzitutto, grazie per essere venuti questa sera. Non mi pare affatto scontato, visti i tempi che corrono, e mi fa molto piacere. Io ogni anno, quest'anno farò ovviamente meno presentazioni, ma insomma, Isola Vicentina, lo sapete, l'ammetto sempre che do di aver perso solo un'edizione. Me ne era ammarico, però, insomma, poi ho recuperato. E magari la prossima volta, vengo due volte, all'inizio e alla fine, così ho fatto un numero di farcifazioni uguale al numero delle edizioni. A parte questo, diciamo che... Beh, innanzitutto grazie per la bella parte introduttiva. Per chiarezza dico che in realtà questo è il mio settimo romanzo dedicato al Rinascimento, nel senso che la Tetralogia dei Medici è stata completata già tre anni fa. Poi è uscito un romanzo dedicato a Michelangelo, che quindi ha sempre un'ambitazione rinascimentale. Poi è uscita la prima parte di questa nuova saga, che è Le Sette Dinastie, e la seconda, che la conclude, che è La Corona del Potere. Quindi in realtà sono sette romanzi che io ambiento nel Rinascimento. Questo amore per il Rinascimento e per il passato è legato, diciamo, a una parola che oggi fa un po' paura, anche ieri forse, però io me ne frego. e per me invece è fondamentale ed è identità culturale. Il passato secondo me ci insegna molto di quello che oggi è il nostro presente, ma rimango sul passato. E dico che raccontare questa saga corale con sette diverse famiglie in sé diverse città è un modo, questo nella Corona del Potere come nelle Sette Dinastie, per provare a raccontare le diverse identità culturali, anime culturali, percorsi antropologici, che caratterizzano le diverse, diciamo, aree, potremmo chiamarle regioni, macro regioni oggi d'Italia. Lo dico perché la sensazione che ho è che quelle differenze che esistono tra la cultura veneta, la lingua veneta e la lingua, la cultura napoletana, la lingua, la cultura romana, milanese, piemontese, ferrarese, toscana, sono figlie in realtà di un percorso storico. E quello che tutto sommato mi lascia sempre un po' perplesso vedere come questo fatto non sia minimamente capito. non sia minimamente capito perché oggi poi in realtà ci troviamo nella stessa posizione di qualche tempo fa, 500 anni fa, e cioè quando l'Italia era effettivamente divisa in perlomeno sei importanti, chiamiamoli stati, in realtà si chiamavano Repubblica o si chiamavano Ducati, o Stato della Chiesa, Repubblica o Regno e poi Viceregno di Napoli, di Sicilia, però effettivamente come dire la penisola era divisa ed era, altro fatto molto importante, comunque la terra più desiderata al mondo, non a caso ciclicamente l'Italia viene invasa, viene invasa da Carlo VIII, viene invasa del Vigilio XVI, viene invasa dall'imperatore a più riprese, e viene costantemente invasa e conquistata, questo perché è una terra che ha tantissimo da offrire, ma ovviamente non è in grado di proteggersi proprio perché è divisa, appunto, e perché c'è una potenza che poi diventerà millenaria come quella di Venezia, che comunque crede in una propria autonomia, nell'essere regina del Mediterraneo, e tutto sommato quando Carlo VIII entra in Italia passando facilmente per il Ducato di Savoia e addirittura per il Ducato di Milano dove c'è un Duca che Duca non è, perché il vero Duca in realtà è Giangaleazzo Maria Sforza, che però è un ragazzino di vent'anni segregato nel castellaccio di Pavia da colui che poi è l'usurpatore e il Duca in pectore, de facto, diciamo, che è Lodovico il Moro, che è suo zio, ecco, suo zio, che è il primo a essere attaccato di fatto da Carlo VIII temendo di non poter resistere a un esercito di 30.000 soldati con cannoni di ultima generazione per i quali era stato usato addirittura il bronzo con cui Leonardo aveva fatto la bagna per il monumento equestre dedicato a Lodovico il Moro che doveva raffigurare Francesco Sforza a cavallo che poi non verrà mai realizzato in realtà, ecco, quest'uomo decide per non essere massacrato e non vedere sterminata la popolazione del suo Ducato di allearsi a Carlo VIII come giustamente dicevi e insieme a lui si allenano gli estensi perché lui ha sposato Beatrice d'Este e quindi la casa d'Este è alleata alla casa degli Sforza e Carlo VIII arriva serenamente in Italia si oppongono a lui ma è un termine assolutamente improprio i medici che poi non fanno nessun tipo di opposizione perché hanno la sfortuna di vedere morire il magnifico Lorenzo nel 1492 quindi due anni prima con la scoperta dell'America muore nello stesso anno Lorenzo il magnifico e quindi il figlio Piero dei medici detto il fatuo lo sfortunato di fatto consegna la città le piazze forti alla discesa del re francese e Carlo VIII arriva dritto a Roma anche perché l'unico baluardo che si poteva opporre almeno in un certo qual modo alla calata era la piazza forte di ostia che di fatto invece viene consegnata dai colonna Carlo VIII perché in precedenza i colonna che sono invidiosi e sono irati e sono desiderosi di farla pagare ai borgia che li hanno usurpati a loro volta secondo loro nel senso che non sono stati in grado di esprimere un papa esponente della loro famiglia e quindi odiando i borgia perché ricordiamo che il 1494 è anche l'anno in cui Rodrigo Borgia sale al soglio pontificio con un conclave molto discusso dove corrompe praticamente tutti per poter essere eletto papa utilizzando tra l'altro i voti del cardinale Sforza che era suo precedente alleato e con cui poi invece l'alleanza si rompe a maggior ragione perché gli Sforza si sono alleati con Carlo VIII quindi vedete come tutto si collega ebbene i colonna romani famiglia romana per eccellenza una delle sette dinastie fa il patto con Carlo VIII e i due cugini Fabrizio e Prospero entrambi capitani di Ventura conquistano mentre sta scendendo Carlo VIII la roccaforte di Ostia e quando arriva Carlo VIII gliela consegnano e quindi Carlo VIII piomba su Roma a quel punto il papa si rifugia a Castel Sant'Angelo questo lo dico per dirvi quanto quanta poca resistenza viene offerta dagli italiani che chiaramente italiani ancora non sono ma da milanesi ferraresi veneziani fiorentini e romani a questo punto e poi il papa per come dire a divenire una qualche forma di accordo perché comunque c'ha un re con 30.000 soldati che stanno stuprando le donne incendiando le case devastando i palazzi profanando le chiese uccidendo i bambini ecco a un certo punto dice ok forse è meglio arrivare a patti e oltre a dargli ovviamente vettovaglie quattrini e quant'altro gli consegna addirittura suo figlio Cesare che deve accompagnare Carlo VIII fino a Napoli in ostaggio Carlo VIII dice in segno di amicizia in realtà Cesare è di fatto un ostaggio però Cesare è talmente in gamba perché pur essendo un pazzo scatenato era comunque molto intelligente molto furbo e anche era un uomo dalle strategie sottili a un certo punto riesce a fuggire travestito da stalliere attraverso un passaggio segreto ma insomma questo poi magari lo scoprite meglio nel dettaglio nel libro però tutta questa è storia tutto questo è passato è il nostro passato compresa compresa la dominazione aragonese a Napoli non a caso Napoli ha quattro castelli tutti di derivazione di architetture chiaramente aragonesi e così come la riorganizzazione del porto che viene fatta già da Alfonso il Magnanimo che troverete nella prima parte di questa saga nelle Sette Dinastie e però tutto questo ci fa capire come effettivamente le diverse parti d'Italia le diverse chiamiamole regioni o regni che volete hanno una storia completamente diversa alcune hanno una storia di dominazione subita altre hanno una storia di invece assoluta indipendenza Venezia è sempre stata dal 421 ricordo per chi non lo ricordasse perché stanno tutti a parlare di Dante e va benissimo anzi io sono entusiasta di questo però mi permetto sommessamente di notare che l'anno prossimo casca nei 1600 anni la Repubblica di Venezia che poi non esiste più però diciamo che nel 421 viene fondata quindi se la matematica non è un'opinione 2021 meno 421 fa 1.600 sarebbe bello che la regione parlasse un po' di più diciamo in Veneto si parlasse un po' di più di questo fatto perché non lo leggo da nessuna parte però insomma io proverò a picchiare su questo fatto da qui in avanti insieme probabilmente anche a Dante però insomma credo che sia importante ricordare questo e è importante perché io credo che barattare la nostra identità per l'oblio non sia mai una buona idea ho la sensazione che tante soluzioni oggi ci sembrano nuove e non sappiamo bene che pesce pigliare e poi io in lockdown come dire ho rivissuto qualcosa che stavamo vivendo tutti noi studiando semplicemente quello che avveniva 500 anni prima ma su questo mi fermo perché non voglio so che insomma tu hai organizzato bene diciamo tutte le tue parti quindi non le voglio rovinare però appunto effettivamente è una cosa che mi ha stupito perché ha a che fare con Napoli ma lo vediamo dopo grazie di questa bella risposta su quest'Italia desiderata che è un concetto molto 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 calzante e allora sulla parola passato si centra il perché principale non solo di questo romanzo di Matteo Struckel ma anche delle attese con cui è stato accolto strettamente legate al successo internazionale oltre che italiano della precedente puntata della sua saga Medicea o Medicea è uno specchio insomma al passato la cui immagine riflettendo solo in parte il nostro stato presente ci interroga con quant'altro appare di più confuso e indistinto sulle nostre origini o meglio per essere più chiari sul nostro sangue della centralità del sangue non c'è modo di dubitare sin dall'incipit della corona del potere dove si legge glielo avevano ammazzato pensò e avrebbero pagato per questo Ludovico e che corso i suoi assassini e poi gli Ordelaffi e Lorenzo De Medici tutti complici di quell'omicidio avrebbe atteso e giorno dopo giorno nutrito la sua vendetta il personaggio in questione uno dei più fascinosi e sfaccettati dell'intero libro è Caterina Sforza sorella del più noto Ludovico il Moro di cui Matteo ci ha appena parlato ma di lui non meno audace e intraprendente essendo passata la storia con il nome di battaglia di Tigre di Forlì e le pronuncia queste parole all'indomani dell'omicidio di cui resta vittima il marito Girolamo Riario dovuto a una congiura di palazzo su cui si protende la longa manus dei medici fiorentini e d'altra parte la stessa Caterina Sforza che in punto di morte confidò il suo confessore ah se io potessi scrivere tutto stupirei il mondo facendoci capire che se una figura di donna Matteo voleva simbolicamente affidare il successo di questa sua nuova opera scelta non poteva essere più felice nell'incipit Caterina Sforza come Jacqueline Kennedy con cui cinque secoli dopo ha avuto in comune un illustre marito ammazzato da una congiura e una vita alle spalle di cui raccontando tutto dettaglio per dettaglio amante per amante gossip per gossip avrebbe stupito ne siamo sicuri a sua volta il mondo intero ma è solo prima la prima questa delle innumerevoli analogie con anni a noi più vicini che come da un vaso di Pandora si sprigionano a questo romanzo scabroso virulento incalzante e vorticoso esattamente come sono tante news di permanente attualità tanto che se ineluttabilmente vogliamo appuntare l'attenzione sul secondo di questi aggettivi virulento prestato dalla microbiologia alle croniche nere nefaste dei nostri giorni l'analogia è servita da Struckel con l'esplodere dell'epidemia di un morbo contagioso e letale all'epoca sconosciuto inizialmente battezzato mal francese perché introdotto in Italia dalle truppe francesi di Carlo VIII e da secoli noto come Sifilide un virus la cui descrizione è affidata dall'autore alle parole di uno dei primi scienziati che realmente lo studiò l'anatomo patolo chiamiamolo così anche se all'epoca forse non era la definizione corrente ma sicuramente ci capiamo Alessandro Benedetti cattedratico dell'università di Padua che così ne narra gli effetti in uno dei capitoli più illuminanti del libro oh non c'è molto da dire ma ecco quello che ho visto le ossa di quei corpi vedete e gli organi vitali erano come era come se fossero deformati in alcuni casi addirittura esplosi dall'interno ecco dove in una scuola di scrittura additare un pregio peculiare dimostrato da Matteo Strucolo in questa sua opera ovvero l'utilizzo vivo e verosimile delle fonti perché questa frase di Benedetti è presa proprio dalla storia da una sua autentica relazione delle fonti di manzoniana memoria per la precisione le relazioni sul mal francese realmente vergate da Alessandro Benedetti per essere in queste pagine assunte a motore narrativo di un intreccio quanto mai calzante e attrattivo aperta la parentesi chissà quanto meglio o peggio di lui si troverà un impensabile oggi veramente impensabile narratore del 2500 obbligato ad estreggiarsi con quanto noi noi saremo in grado di conservare di attendibile e di consultabile ripeto di attendibile e di consultabile relativamente a questa pandemia destinandolo a supporti destinati a durare nel tempo piuttosto che a volatilizzarsi nell'ettere chiusa la parentesi ed è una parentesi su cui passo volentieri la parola a Matteo perché indubbiamente questa analogia così importante fra il mal francese e il covid ci dà la possibilità appunto di parlare di questo rispecchiamento di epoche di temi di famosi corsi e ricorsi storici allora è stato devo dire molto particolare per me immagino come per ciascuno di noi naturalmente il lockdown ed è stato però assurdo devo dire io stavo scrivendo questo romanzo eravamo tutti in isolamento fiduciario per ovvi motivi e siamo rimasti chiusi in casa per mesi e alla fine mi sono ritrovato a scrivere questa storia in cui sai perché lo studi che i francesi arrivano a Napoli perché avevamo lasciato Carlo VIII alle porte di Napoli e a Napoli entra facilmente perché anche lì Ferrandino secondo d'Aragona fugge perché non ha alcuna possibilità di resistere ovviamente all'attacco dei francesi per cui scappa nell'isola di Ischia poi dopo riuscirà nell'arco di qualche anno a riconquistare il regno che a quel punto diventa il vice regno di Napoli perché di fatto diventa un vice regno spagnolo per essere chiari riesce a riconquistarlo grazie all'intervento da una parte dei famosi cugini colonna che avevamo lasciato come alleati di Carlo VIII ma poi passano cambiano casacca perché vengono pagati di più dagli spagnoli a questo punto sbarcano a Messina a Messina incontrano il gran capitano consalvo di Cordova che viene mandato appunto dalla Spagna a dare manforti a Fernandino secondo d'Aragona e insieme risalgono attraversano lo stretto risalgono la Calabria e un po' alla volta vincono più o meno dopo aver perso una battaglia molto importante però poi risalgono lo stivale arrivano a Napoli insomma Napoli a un certo punto torna a essere aragonese però il punto vero è che Carlo VIII quando Napoli cade in mano agli aragonese se ne era già andato da un pezzo perché a Napoli esplode il mal francese per l'appunto o il morbo gallico che dir si voglia che è questa malattia che poi prenderà il nome di Sifilide che ho studiato insomma con gli strumenti del romanziere quindi senza nessuna voglio dire precisione scientifica eccetera eccetera però insomma mi sono letto torna a essere di monografia in particolare mi sono letto le cronache appunto come giustamente dicevi Alessandro Benedetti perché mi sono letto le sue cronache perché lui è stato il primo per giunta appunto maestro di anatomia all'università di Padova a vederne gli effetti nei diversi stadi perché i francesi mentre risalivano alcuni con la malattia al primo stadio quando c'è come dire sapete che il contagio si trasmette per contatto cioè attraverso il rapporto sessuale e quindi il primo stadio portava fondamentalmente ci sono queste descrizioni molto interessanti in cui dicono che il corpo si copre di macchie grandi come chicchi di miglio neri quindi e si forma una piaga ovviamente sull'organo riproduttivo che dura più o meno un mese una piaga purulenta eccetera poi dopo questo primo mese i sintomi mese mese e mezzo due mesi insomma però i sintomi se ne vanno poi tornano più gravi fino allo stadio 3 diciamo è una malattia che se non curata comunque ha un decorso di anni però nella fase 3 porta poi alla disgregazione proprio del corpo per cui cosa succede che quando poi i francesi tornano su e si ritrovano a Fornovo-Sultaro contro a quel punto Venezia che preoccupata dal fatto che l'Italia è stata sottomessa così facilmente dal re francese decide di opporsi e le trame sono intessute da questo gran maestro delle spie che è Antonio Condulmer parente ovviamente di quei Condulmer che avevamo già conosciuto per chi l'ha letto insomma nella prima parte nelle Sette Dinastie ebbene Alessandro Benedetti è il medico capo dell'esercito confederato veneziano milanese con l'appoggio esterno del Papa della Lega Santa che si oppone al ritorno diciamo alla risalita di Carlo VIII c'è la battaglia di Fornovo-Sultaro una battaglia che è stata dipinta magnificamente da un grandissimo pittore veneziano ovviamente più di un secolo dopo che risponde al nome di Tintoretto andatevi a guardare la battaglia sul Taro una tela strepitosa e però questo medico come dire comincia ad avere il primo contatto con la malattia diciamo così la prima visione insomma degli effetti della malattia perché sul campo di battaglia dopo che i veneziano milanesi hanno vinto ci sono sì cadaveri uccisi dai soldati ma ci sono anche cadaveri che invece uccisi non sono stati ma che di fatto agonizzavano o erano morti di mal francese e che erano senza occhi senza naso senza mani che invece magari erano interi ma che poi studiati sul tavolo chiamiamolo settorio rivelavano proprio appunto come veniva letto l'esplosione degli organi di alcuni organi interni al corpo e quindi da tutte questi da questa prima diciamo così parte di studi si comincia a capire che c'è un'epidemia che c'è un male che si trasmette per contatto Benedetti è il primo a capirlo per contatto con il cioo sessuale poi in realtà si aprono dei dibattiti delle sfide addirittura accademiche ne cito uno in particolare in un capitolo all'università di Ferrara tra due grandi medici umanisti e però ecco Benedetti è il primo insieme alla Repubblica di Venezia a sviluppare una serie di misure di contenimento di sicurezza ok quindi veramente cioè è stata incredibile studiare questa cosa e ti rendi anche conto della 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 prospettiva del fatto che sembra quasi un esorcismo cioè tu tu stai vivendo ok la pandemia e però ti rendi conto che peste colera sifilide cioè davvero ciclicamente l'umanità viene devastata tra l'altro la sifilide fece una quantità di morti mostruosa cioè intanto perché erano molti meno gli abitanti ma la percentuale di morti che fece fu una cosa allucinante diciamo molto più alta di quella del coronavirus e senza voler minimizzare nulla però questo per dire che poi quando ti trovi di fronte a queste cose ti rendi conto che veramente sei proprio un granello di sabbia un ingranaggio gigantesco dove non hai alcuna possibilità di far girare la ruota ed effettivamente è interessante perché anche lì le prime misure che alcune erano già state adottate con la peste perché la quarantena arriva ancora prima per la verità però dalla quarantena all'isolamento al fatto di censire tutte le prostitute della Repubblica di Venezia in modo da distinguerle tra le prostitute locali non contaminate ancora dai soldati che avevano combattuto o che in qualche modo avevano avuto rapporti con le prostitute francesi parlo di quelli chiaramente veneziani milanesi eccetera eccetera e appunto vengono censite in modo da distinguere quelle locali diciamo così quelle veneziane dalle foreste con termine proprio classicamente veneto le prostitute foreste vengono come dire confinate insieme ai soldati che si presume si teme o che magari già stanno manifestando i segni nei cosiddetti quartieri invernali che ai noi erano nel mestrino quindi forse a me sta così contenti non erano però in ogni caso di fatto creano l'equivalente di lazzaretti e censiscono e stabiliscono anche tutta una serie di misure che vanno adottate per evitare come dire il contagio con tutto che poi il contagio invece siccome la promiscuità dei costumi sessuali in quel periodo è assoluta vi lascio immaginare che cosa succede infatti ben presto poi la malattia si espande ed è chiaro che insomma poi credo che a questo punto fare i parallelismi è anche troppo facile insomma fa specie pensare che poi a onore del vero almeno fino a qui mi pare in dubbio che la regione che ha affrontato meglio questa pandemia sia proprio quella in cui viviamo noi grazie anche ad alcuni grandi studiosi cito sicuramente il professor Palù e anche il professor Crisanti e fa specie fa specie perché ti conferma il fatto che quando si dice ad esempio che la scuola di medicina padovana è la prima al mondo non è una balla cioè c'è un motivo il motivo è che ad esempio nel 2022 abbiamo 800 anni dell'Università di Padova la seconda più antica del mondo dopo Bologna e l'università credo più importante proprio per la scuola di medicina che ha avuto Vesalio che ha avuto Fabricio Acquapendente e che ha avuto anche Alessandro Benedetti che poi andrà avanti in questa sua ricerca sarà il primo maestro di anatomia a sviluppare un progetto per un teatro anatomico montabile e smontabile attraverso un sistema di diciamo così ponteggi in legno che simulavano un anfiteatro parente diciamo così di quello che poi sarà invece il teatro chiaramente fisso di Fabricio Acquapendente primo al mondo ma anche questo veniva montato all'inizio del Cinquecento quindi quando ormai lui aveva già dieci anni più o meno di studio dopo la battaglia di Fornavo-Sultaro del mal francese e lo faceva montare nel cortile vecchio del Bo nel cortile antico lui faceva montare il Bo era stato da poco acquistato era una locanda si chiamava così perché aveva come insegna il bucranio di questa locanda diventa poi sede dell'università e in quel cortile lui fa montare appunto questo questo teatro anfiteatro in legno si mette al centro su un tavolo sezione il cadavere e mostra durante quella che poi è di fatto una autopsia quelle che sono le caratteristiche del malato di mal francese le conseguenze tra i diversi stadi di cui vi parlavo eccetera eccetera a favore ovviamente di tutti gli studenti di medicina che poi un po' alla volta si impratichiscono cominciano a conoscere questo questo morbo e una volta che si lavorano in medicina poi dopo all'università di Padova tornano molto spesso nelle loro nazioni di origine e portano con sé tutto il bagaglio imparato dove in Veneto dove nella Repubblica di Venezia dove all'università di Padova se non lo dico perché io ogni volta quando arrivo qua parto con delle tirate sul Veneto però mi piace farlo perché poi sembra sempre no che boh noi stiamo a fare la polenta invece voglio dire boh ci siamo andati da fare negli anni ecco e quindi questa questo aspetto che poi torna anche oggi mi ha colpito dieci volte non so come dire mentre scrivi mentre studi per poi provare a rendere a romanzo tutto questo andandoti a leggere il testo perché poi il testo di Benedetti si trova per fortuna c'è una bella traduzione lui ovviamente scrive in latino insomma sarebbe stato un po' duro però è affascinante ed è un testo del Cinquecento sì sono contento di aver stimolato questa finestra aperta su Benedetti perché sicuramente è un personaggio che forse anche per le analogie col presente più mi ha affascinato e adesso ho sentito da Matteo che c'è veramente ragione di essere affascinati di questo di questo nostro medico del del quindicesimo secolo certo che abbiamo chiuso la parentesi allora sulle analogie tra il presente e il futuro e il passato certo che narrando della Firenza della Milano della Roma del tardo quindicesimo secolo non solo per la pandemia ci rendiamo conto che ci parla in qualche modo Matteo l'ha confermato di noi di questa Italia desiderata e divisa dove con buona pace per esempio facciamo degli esempi con buona pace di Papa Francesco le stanze vaticane odorano oggi di soldi sporchi e di traffici poco raccomandabili come all'epoca di Borgia le croniche recentissime ce lo ricordano con qualche rogo in meno ovviamente ma con l'analoga inclinazione al male dove Firenze ogni tanto cerca tramite gigli magici di assurgere centro politico del paese oltre che geografico e dove Milano ha vissuto con la crisi di Tangentopoli una crisi culturale istituzionale tuttora in corso più o meno goffamente cavalcata da aspiranti emoli di Ludico al Moro ma anche dai suoi grevi e poco affidabili spesso sudatissimi loro tenenti cura delle fonti documentata ad altre quattro pagine di titoli posti in appendice e forza evocativa del passato sono due assi nella manica a cui Strucola aggiunge poi quello di una scrittura inevitabilmente e felicemente visiva date anche le profonde connessioni dell'autore con il mondo dei fumetti scrittura che si fa dunque cinema in poderose ma indiloquenti scene di massa come i capitoli dedicati ai citati assedi di Ostia da parte di Colonna schieratesi contro i Borgia o della Locca di Rivaldino o della citata battaglia di Fornovo dove si infrangono i sogni di conquista di Carlo VIII di Francia una battaglia che non si sa bene chi abbia vinto chi abbia perso ma l'occorrenza si declina questa scrittura con naturalezza anche nei primi piani negli interni in qualcosa che ricorda non solo il grande cinema ma anche quelle serie televisive che ci avvincono così tanto non mi limito qui a citare il trondo di spada ma ci sono anche altre che sono proprio la sintassi visiva della nostra vita familiare e cito per esempio questa naturalezza visiva per esempio nel drammatico capitolo dedicato alla prigionia di Ludico al Moro che alla fine è incarcerato dai francesi nel castello di Loche tenta disperatamente di svagarsi con i colori da pittore imitando grandi artisti avuti alla sua corte come appunto Leonardo da Vinci ecco volevo appunto approfondire queste tue relazioni con la cultura visiva del cinema che ho sentito molto forte e comunque della visività allora guarda faccio un passo indietro e poi arrivo alla visività però devo dire che se se io oggi dovessi dare dei riferimenti sarà che sono fresco di riletture di alcuni grandi classici ma in generale da sempre io sarà che ormai sto invecchiando insomma leggo sempre di più i classici rileggo i classici allora questo lo dico perché per esempio non c'è niente di più visivo delle tre streghe di Macbeth che rimestano nella marmitta quando all'inizio lui le incontra in Scozia essendo giustamente le di Scozia oppure anzi diciamo che punta al trono insanguinato di Scozia oppure penso ovviamente al mio amato Dumas o a Teofil Gautier Capitan Fracassa o a Onore de Balzac in verità o a Victor Hugo Notre Dame de Paris no o al Patto del Faust c'è qualcosa di più visivo di tutto questo o al regno di Relir diviso in tre parti o all'Iliade di Omero al duello non so ad Achille che viene attaccato no scusatemi il cadavere di Ettore che viene attaccato al carro di Achille viene portato no e sfraccellato sul campo di battaglia dopo che è stato sconfitto e alla fine poi lui viene pregato che vengano restituite così quello che rimane di un guerriero straordinario che è stato sconfitto da un dio fondamentalmente a parte la questione del tallone ma per il resto non aveva nessuna possibilità di vincere ecco io devo dire la verità credo che in realtà i miei riferimenti e quello che prendo a modello non è il cinema e non è neanche il fumetto nel senso che è proprio la grande letteratura penso a Tolstoi guerra e pace io penso che il romanzo abbia questa capacità la capacità di farti vedere le cose perché le evoca e tu proietti quello che vedi in un tuo cinema personale se vogliamo ciascuno di noi ha il suo perché ognuno immagina quella storia in un modo diverso e però ho imparato che per quanti film io veda per quante serie televisive io veda per quanti fumetti o lega eccetera eccetera non c'è niente di più visivo della parola a patto che intendiamo la parola come una sorta di torcia che illumina una camera buia e che improvvisamente grazie alla profondità di una parola o di una costruzione di parole perfettamente realizzata riesce a ottenere per cui una scena descritta anche con poche parole può essere fortemente efficace l'importante è studiare cosa che io faccio quei modelli e cercare poi ovviamente di da una parte farli tuoi dall'altra restituirli chiaramente con un tuo stile poi certo c'è anche c'è anche la visione dei film ad esempio un film per cui io provo una quasi ossessione è Macbeth di Roman Polanski un film più o meno degli anni settanta ricordo proprio Macbeth che guardava la Scozia in questa alba di sangue con la gamba che è appoggiata sui merli delle mura però quello è qualcosa che viene reso da un regista su un testo per giunta teatrale e quindi evidentemente lui ha visto quella scena perché gliel'ha mostrata prima Shakespeare non so come dire mi rendo conto che da questo punto di vista i grandi romanzi sono sempre visivi cioè è difficile sostenere che poi non voglio dire che il mio sia un grande romanzo ma io guardo a quei romanzi che risultano visivi perché prima ancora sono grandi romanzi o grandi poemi insomma le scene del duello tra tra Kille e Ettore o il saluto di Ettore ad Andromaca alle porte e tu non lo vedi ma in realtà lo vedi perché quando lo leggi è una cosa che ti arriva in faccia come un treno non riesce a sottrarti certo devi lavorare con l'immaginazione ma io credo che un buon lettore abbia un'immaginazione formidabile poi sicuramente ci sono anche influenze che ne so io sicuramente ci sono registi che mi hanno dato ad esempio una certa passione per il racconto epico Sergio Leone soprattutto tutti però per esempio io sono un grandissimo fan guardavo con mio padre i film e li riguardavo di questo regista che non so se conoscete però perché era un pazzo scatenato si chiamava Sam Peckinpah è quello del mucchio selvaggio di Cani di Paglia di Sierra Ciarriba di Voglio la Testa di García ecco Voglio la Testa di García è un film che mi ha sconvolto perché quando c'è insomma il protagonista che ha questa testa che deve portare a chi gli ha commissionato di fatto l'omicidio e per conservarla la mette in ghiaccio perché se no arriva completamente putrefatta e sta viaggiando in auto e ha questa testa a fianco eccetera eccetera quello è un film io l'ho visto da ragazzino probabilmente oggi sarà vietato a chiunque perché sarà figuriamoci politicamente scorrettissimo però quello è un film che è un corso di scritto cioè se uno lo guarda effettivamente davvero ti dà tantissime soluzioni a livello di storia certo è un film abbastanza particolare penso anche a Lucchino Visconti oppure a ma cosa posso dirvi Werner Herzog che è un altro regista ecco mi rendo conto che ho una passione smodata per alcuni registi che hanno poi una serie di cose in comune tra cui anche una certa passione diciamo per elementi a volte truculenti ma del resto mi rendo conto che insomma dalle tragedie di Shakespeare alle tragedie greche non c'è niente di più truculento di una tragedia greca voglio dire insomma per cui anche su questo poi ti rendi conto che davvero penso sempre di più di vivere un tempo che non è il mio nel senso che ad esempio il mio editore a un certo punto mi ha detto che gli ricordo Edmond Dantes che è il protagonista del Conte di Monte Cristo probabilmente per la questione dei capelli l'editore è una persona molto tradizionale molto elegante eccetera eccetera però mi rendo conto che qualcosa di vero c'è nel senso che un pochino io filtro la realtà attraverso le letture che faccio e che rifaccio e attraverso i personaggi come dire che poi diventano un po' i miei personaggi perché alla fine quando ho avuto l'opportunità di scrivere ad esempio Decadenza di una famiglia che è il quarto romanzo dedicato ai Medici e in particolare a Maria dei Medici tutto ammettato nella Parigi del Seicento per me è stata la grande occasione per provare a fare un omaggio totale ad Alexandre Dumas con quella stessa Francia cioè in quel romanzo c'è Richelieu in quel romanzo ci sono le guardie del Cardinale ci sono a un certo punto ci sono i moschettieri non i quattro moschettieri degli altri però ovviamente per uno che è vissuto dicendo e continua a avere pensato a Dumas e che quando io sono stato entusiasta di aver vinto il Bancarella è stata una cosa pazzesca l'altra grande gioia è stata quando Tutolibri sulla stampa recensendo un libro ha detto Strucule un Dumas 2.0 ho detto vabbè basta posso anche smettere di scrivere nel senso che per me era il più grande complimento che potevo ricevere però pensate a quanto visivo è ad esempio veniamo un attimo in Italia il nome della rosa di Ecco cioè poi poi tu lo vedi grazie a quel film meraviglioso che ha fatto a No mentre ad esempio mi è piaciuta molto poco questa recetta in serie tv che hanno fatto però quel film in qualche modo traduce in immagini qualcosa che tu già hai visto con la tua immaginazione con la tua fantasia con la tua volontà di costruire insieme all'autore che ti ha dato ovviamente il libro e questo è quello che a me piace fare io poi penso che effettivamente come dire magari la mia scrittura poi aiuta probabilmente il lettore forse può essere più immaginifica di altre o più come giustamente dicevi tu visiva anche di altre sicuramente però ecco in realtà è costruita su un modello direi ottocentesco benissimo adesso in questo mio ultimo intervento lo faccio così per andare a chiudere e per stimolare voi a fare le domande che sicuramente avete in servo per Matteo in ogni caso sono stato felicissimo di sentire rievocare da lui voglio la testa di Garzia perché solo sentire questo titolo mi fa venire proprio in mente la parola cinema è un film straordinario se qualcuno di voi non l'ha visto glielo raccomando con tutto il cuore perché veramente Peckinpah è stato un autore di grandezza straordinaria bene che altro c'è da dire c'è moltissimo da dire ma soprattutto c'è moltissimo da leggere possiamo chiederci dove Matteo Strucola ama situarsi ma l'abbiamo anche già capito in questa composita e pittoresca narrazione esistono personaggi che più di altri tradiscono qualche suo affacciarsi tra le quinte dell'intrigo ma io se mi consentite un azzardo se me lo consente Matteo un po' la sua defilata presenza la troviamo naturalmente su quei personaggi veneti a cui lui stesso ha fatto riferimento soprattutto questo Antonio Condulmer che è qualcosa di più di un semplice rappresentante diplomatico della Repubblica Serenissima e probabilmente fu proprio quel gran maestro delle spie di cui si narra in alcuni fra i capitoli più intriganti del romanzo e sono quelli dedicati a una presenza viva quanto appartata e prudente della Venezia dei commerci e delle flotti in guerra perpetua con i turchi che non è così lontana dalla Venezia e del Veneto di giorni nostri ancora le prese con un certo disagio di trovarsi in Italia non nascondiamocelo come ricorda scusate sono proprio alla fine come ricorda il governatore Zaia magnificamente reinventato su basi reali da Maurizio Crozza cosa manca giunti a questo punto dalla presentazione della colonna del potere il finale che ovviamente non siamo qui a svelarvi avendo però cura di sottolineare come dopo oltre 500 pagine di una narrazione quanto mai fitta acrobatica multicolore questo finale obbedisca a una delle più edificanti leggi non scritte delle storie quella della circolarità di un epilogo che si compie rievocando un lontano eppure vicinissimo incipit buona lettura a tutti grazie sono qui e probabilmente verrà utilizzato un altro microfono per le vostre domande credo nel frattempo dico anche che trovate almeno tre grandi personaggi femminili come la tradizione per quanto mi riguarda che sono giustamente Caterina Sforza Lucrezia Borgia che nel mio racconto non è tanto quella donna come dire corrotta e come dire sessualmente disinibita come storicamente è stata rappresentata tra l'altro proprio da Duma che ovviamente non ne conosceva granché perché non aveva vissuto in quel periodo a me è piaciuto più raccontarla come una donna che cerca di affermare se stessa e la propria autonomia dalle scelte politiche del padre che la tratta ovviamente come una pedina all'interno di un gioco politico molto complesso dove lei di fatto è merce di scambio e nulla più un po' come gli altri figli che però hanno ruoli insomma completamente diversi e che però ciascuno di loro è come dire già predestinato ad una carriera che in nessuno dei tre casi vorrebbero fare perché uno dovrebbe diventare papa e vorrebbe essere capitano generale dell'esercito pontificio cesare un altro vorrebbe essere tutto tranne che il capitano generale dell'esercito pontificio Giovanni e la terza vorrebbe semplicemente potersi innamorare come una ragazza qualsiasi e questo non le è concesso e per ben due volte anzi tre di fatto le viene imposto un marito nel secondo caso il marito le viene addirittura ammazzato dal killer del fratello Michele Michelotto era questo sicario quindi vi lascio immaginare che razza di vita abbia avuto Lucrezia Borgia è un personaggio molto complesso che è stato raccontato magnificamente da Maria Bellonci e poi ovviamente il terzo personaggio questo sia un personaggio che potremmo definire lussurioso ma per necessità perché l'alternativa era la morte e parlo di Sancia d'Aragona che sposò Goffredo Borgia e fu amante contemporaneamente di Giovanni Borgia e di Cesare Borgia quindi andava a letto con tutti e tre i fratelli nel dubbio e questo è storicamente come dire comprovato il motivo per cui non solo con loro per la verità ma certamente con loro e il motivo è che era l'unica arragonese la corte di Borgia se esiste qualcosa di più pericoloso non lo so ma vi assicuro che lo era parecchio e quindi quello era l'unico modo per vedersi confessare tutto quello che poteva essere utile per sopravvivere la sua grande amica era Lucrezia quindi poi in realtà era quasi una sorella diciamo così per lei quindi è un personaggio affascinantissimo un personaggio anche fosco anche cupo sofferto forse alla fine insomma è uno dei personaggi che nella sua tragicità e anche insomma nei suoi vizi però sicuramente è un personaggio che mi ha molto colpito ecco no questo lo volevo dire perché da sempre cerco di valorizzare al massimo le figure femminili che poi tra l'altro in questo caso c'era poco da valorizzare perché non ho già tre grandissime protagoniste della storia Caterina Sforza la tigre di Forlì è quella che si oppone a Cesare Borgia con le cannonate che resiste per un mese asserragliata nella rocca di Ravaldino che combatte con la spada addirittura era stata all'inizio nel 1488 quando io cioè all'inizio della storia che racconto è proprio il preludio diciamo il prologo nel prologo lei viene tradita da una famiglia molto potente della Romagna gli orsi che le strappano i figli lei la leggenda dice addirittura che lei si fece cioè disse che siccome l'unica l'unica parte della città che aveva resistito agli orsi che avevano conquistato la città e avevano in nostalgia i suoi figli l'unica parte della città che resisteva fosse appunto la rocca di Ravaldino lei disse fatemi entrare nella rocca che convincerò il castellano ad aprirvi le porte loro dicono d'accordo lei entra si chiudono le porte ecco il punto Caterina è dentro gli orsi pensano che avendo in nostalgia i figli lei come dire cederà come ha promesso in realtà la leggenda dice che lei addirittura sia salita sul sulle mura merlate della rocca e abbia sollevato le gonne mostrando mostrando ovviamente quello che potete immaginare dicendo che potevano anche ucciderle i figli e lei aveva tutto il necessario per averne degli altri in realtà questa è come dire una versione questa si romanzata le cronache che ho studiato dicono altro cioè che lei effettivamente entrò effettivamente rimase chiusa nella rocca con i figli che erano in ostaggio ma ovviamente come dire il suo essere madre non le avrebbe mai permesso di dire quello che vuole la leggenda lei pianse in una o comunque insomma rimase in una sala in una in una stanza della torre mentre il suo castellano a capo della rocca di Ravaldino era stato autorizzato questo si a cannoneggiare la città di Forlì nonostante la rocca fosse la rocca di Forlì se gli orsi non avessero deposto le armi non avessero restituito i figli e alla fine gli orsi effettivamente fanno così ecco questa è la parte storica poi ovviamente un po' come per Lucrezia Borgia che sembra sia stata la più grande prostituta della storia e così non è anche per Caterina come dire si è un po' cavalcato sono cavalcati alcuni episodi va detto però che Caterina era effettivamente che lei aveva avuto ucciso il marito che era uno dei cospiratori della congiura dei pazzi ve la ricordate quella che poi ho raccontato nel secondo romanzo di Maggi per cui poi anche tutti questi romanzi dialogano tra loro e poi altri due mariti più una serie di vogliamo chiamare toy boys perché veramente erano molto più giovani di lei e quando alla fine questo è incredibile quando alla fine Cesare conquista la cadena Valdino e la sottomette come sua prigioniera mettendola alla catena lei è talmente scaltra che lo fa diventare suo amante e questo le permette comunque di arrivare a Roma di non venire uccisa per esempio perché lui poi si innamora di lei eccetera eccetera poi a un certo punto la rifiuta e lei viene chiusa a Castel Sant'Angelo ma poi verrà liberata però questo per dire poi come certi equilibri di potere di fatto in quel tempo non solo in quel tempo ma certamente in quel tempo per riuscire comunque a autoconservarti usavi tutto quello che avevi a tua disposizione ma davvero anche perché l'alternativa probabilmente era venire sgozzati per cui da un certo punto di vista mi rendo anche conto che lo studio della storia ti fa capire quanto poi la mentalità di quel tempo è qualcosa che che poi oggi forse capiamo anche benissimo però era sicuramente molto diversa ed era molto più estrema ovviamente anche questo fatto che poi in realtà non cambiava niente perché anche i capitani di ventura cambiavano bandiera un po' come i deputati o i calciatori che cambiano squadra a seconda di quanto i soldi gli danno per cui insomma poi in realtà i corsi e ricorsi sono infiniti però effettivamente se pensiamo all'idea di un esercito che combatte per la propria nazione perché è un esercito nazionale ad esempio qui invece in Italia abbiamo ancora per un pochino i soldati i capitani di ventura che stipolano il contratto vengono pagati eccetera eccetera insomma e questa è proprio una tipicità italiana infatti si chiamavano più correttamente condottieri ma si chiamavano così anche in Inghilterra perché il termine contrattuale era appunto quello della condotta ecco scusate volevo dare questi ultimi dettagli che mi sembravano interessanti e c'è qualche domanda ciao ciao bentornato a Isola Vicentina grazie io volevo chiederti sono scritto una domanda qui quali sono a tuo avviso i maggiori rischi e le migliori opportunità che offre lo scrivere un romanzo storico allora guarda i rischi sono tanti perché gli errori sono dietro l'angolo cioè ma sempre sempre devi non solo rileggerti tantissime volte ma poi ti rileggi con l'editor con tutto che poi voglio dire ci sono anche tutta una serie di scelte che vengono fatte per cui per esempio mi è capitato in alcuni casi mi capita di spostare magari un fatto di un mese o di due mesi perché mi aiuta nella costruzione del romanzo di solito questa cosa la scrivo in nota cioè nelle note d'autore alla fine qualche volta no perché poi insomma magari sono delle differenze minime però comunque devi sempre stare molto attento devi studiare tantissimo questo insomma chi è venuto magari le percenti volte in cui sono venuto lo sa ne ho parlato a lungo però insomma i rischi sono davvero tanti perché perché pur secondo me non essendo giusto richiedere a un romanziere la precisione di un saggista perché non ha veramente senso cioè proprio sarebbe demenziale però è giusto chiedere una vero simiglianza nella scrittura rispetto naturalmente al periodo che vai a raccontare e tieni presente che tu ricostruisci un mondo per cui poi le cose che devi tenere nel quadro di insieme sono veramente tante cioè al di là dei fatti storici poi c'è la moda poi ci sono le tecniche di combattimento poi ci sono tutte le genealogie poi ci sono le realtà economico-finanziarie delle diverse come dire strutture monarchiche o comunque somma delle diverse repubbliche eccetera eccetera poi ci sono le istituzioni politiche cioè voglio dire finché un ducato è tutto facile quando è repubblica è un caos perché ci sono sempre una marea di organi consultivi elettivi governativi solo con le fazioni di Savonarola stavo impazzendo soprattutto perché c'è anche Savonarola tra l'altro in questo libro mi sono studiato le sue prediche e ne ho utilizzata una in particolare per un capitolo che però è interessante perché racconta ad esempio come l'alfiere della spiritualità massima in realtà un po' credo coscientemente un po' inconscientemente di fatto fonda una repubblica teocratica appoggiato da un esercito di fanatici che diventano più moralisti di lui e quindi arriviamo a degli sbilanciamenti fuori comunque stavo divagando quindi i rischi però sono molti per tutte queste ragioni e anche per altre anche perché per esempio in un romanzo come questo con sette dinastie diverse con sette alberi generologici diversi con sette percorsi storici diversi che peraltro si intrecciano molto spesso tra loro e tenere insieme tutto è molto complicato cioè io a un certo punto avevo proprio un senso di affaticamento fisico perché per dirti mi ritrovavo avendo qualcosa come 12 13 14 i protagonisti in scena si presume che insomma un protagonista abbia un certo numero di capitoli dedicati perché devi raccontare la sua storia il suo carattere le sue scelte eccetera eccetera e mi ritrovo che magari il protagonista numero 14 arrivava dopo 13 capitoli precedenti per cui hai il problema del lettore che nel frattempo si è dimenticato di quel personaggio lì in realtà poi non è sempre così perché ovviamente interagiscono tra di loro quindi magari si ritrovano prima però davvero tante volte a un certo punto per esempio mi rendevo conto che magari questo personaggio era rimasto un po' abbandonato e quindi piuttosto lo inserivo all'interno che ne so il capitolo 25 diventava il capitolo 26 e nel capitolo 25 dedicavo una scena a lui perché devi cercare di portarli avanti tutti insieme con tutti i coprotagonisti antagonisti eccetera per cui poi ci sono pure loro dando un senso di compattezza comunque narrativo a chi sta leggendo perché altrimenti si perde perché altrimenti non capisce esattamente dov'è perché altrimenti non c'è quel ritmo che ti permette di rimanere agganciato alla pagina questi sono i rischi le opportunità ti dico allora la più grande opportunità cioè le due più grandi opportunità sono queste da una parte le riassumiamo con identità e desiderio identità perché ti permette secondo me di capire di più come mai oggi siamo arrivati in un certo modo e perché siamo fatti in un certo modo e perché c'è una profonda differenza tra la cultura veneta e la cultura napoletana entrambe sono necessarie entrambe sono bellissime il punto è che dovremmo imparare a fare sistema con la multi identità e la multiculturalità questo che è la nostra più grande ricchezza e questo però a noi non è affatto chiaro cioè soprattutto non lo è secondo me ai nostri governanti e in molti casi per problemi proprio di strumenti culturali cioè non c'è la capacità di capire questo fatto perché semplicemente non si sa un cavolo di storia la seconda e per cui appunto il termine identità è sempre qualcosa di terrificante sembra che il nostro passato sia la resistenza e basta invece c'è il risorgimento invece c'è il 700 veneziano invece c'è il rinascimento invece c'è il medioevo ci sono un sacco di stagioni che non vengono raccontate che sono state insabbiate non ho capito perché quindi questa è la grande opportunità del romanzo storico provare a dire no signori io non ci sto noi non ci stiamo perché vogliamo leggere queste storie e le raccontiamo e perché per esempio ci sono anche straordinari personaggi femminili che non sono stati raccontati e che devono essere raccontati e poi la seconda parte è il desiderio nel senso che quel desiderio di cui parlavamo cioè il fatto che l'Italia sia stata invasa ciclicamente da tantissime nazioni imperatori sovrani stranieri è dominata e il motivo per cui poi nel risorgimento si arriva in un'Italia è perché ancora allora c'è qualcuno Napoleone III che fa l'accordo con Cavour eccetera ma il suo obiettivo in realtà è creare uno stato del nord Italia da soggettare alla Francia ancora una volta Italia che peraltro è sotto gli austriaci e che erano stati preceduti dai francesi cioè quindi veramente arriviamo ormai tra un po' diventeremo un po' tentato io temo cinese insomma contro quello che sta succedendo ma questo è un altro discorso e quindi questo essere desiderati però ti dà la grande opportunità che se scrivi un romanzo storico a proposito di opportunità puoi essere molto tradotto certo non è che tutti i romanzieri di romanzi storici italiani sono tradotti però ad esempio nel mio caso io ho visto che c'è stato veramente un entusiasmo prima per i medici poi anche per le sette dinastie le sette dinastie è un romanzo che per dire i medici non sono stati tradotti in arabo le sette dinastie saranno tradotte in arabo e usciranno adesso in Russia i medici in Russia non ci sono ancora arrivati però poi voglio dire Ungheria Polonia Repubblica Ceca Slovacchia Colombia Spagna Francia Germania cioè veramente Stati Uniti Inghilterra ovunque e questo perché perché i lettori anche quelli coreani vogliono leggere ad esempio del rinascimento italiano perché ancora oggi siamo il paese più invidiato desiderato del mondo per quello che abbiamo per quello che abbiamo e per quello che siamo stati e che non siamo in grado di riproporre adesso poi è molto più complicato ovviamente però è anche vero che il covid è arrivato quest'anno insomma forse alla fine dell'anno scorso adesso questo non lo sappiamo però nel frattempo sarà cent'anni che non siamo in grado di sfruttare il fatto che abbiamo un petrolio che si chiama storia, arte e cultura voglio dire no? perché? perché ogni volta il problema è no ok allora cerchiamo di puntare su qualcosa che sembra sempre che sappiamo fare soltanto la pizza il risotto se va bene il prosecco eccetera tutto fantastico però non c'è solo la cucina la nostra multiculturalità non sono solo le cucine regionali voglio dire se fai un elenco degli artisti nella storia dell'umanità ci sono solo italiani cioè poi ho capito che mi citerai anche Warhol va bene però rimaniamo sulle arti diciamo sulla pittura ho capito abbiamo fatto tutto noi fino al novecento praticamente va bene ok dall'impressionismo si è svegliato qualcuno però insomma nel frattempo per quattro cinque secoli oh non ce n'era proprio e poi però la gioconda sta a Parigi per dire oppure uno dei quadri comunque che viene più spinto alla Gemmè delle Gallerie è un quadro di Botticelli a Berlino cioè capisci per cui però le opportunità sono queste che a un certo punto se non altro dall'estero sono più propensi a leggere questo tipo di storia o sono molto propensi a leggere anche perché a onore del vero ci sono anche pochissimi autori italiani che le scrivono va detto anche questo io dico solo che Matteo qui ha avuto la possibilità di presentare anche l'anno scorso il primo romanzo della saga delle dinastie mi sembra che il profumo di carta si può dire abbia portato un po' di fortuna 20 lingue di traduzione sono qualcuno in meno ma insomma più o meno ma allora guarda porta sempre molto bene perché ogni volta che vengo il romanzo va in classifica l'anno scorso è andato subito in classifica quest'anno adesso è undicesimo appena entrato e quindi ormai per me è proprio un amuleto insomma io vengo diciamo che quando vorrò correre per lo strega vengo che magari magari una finalina magari non lo so qualcosa arriva bene non ci sono davvero altre domande oppure sono tutti timidi abbiamo passato una specialissima serata con un grande narratore orale non solo se ti lasse anche la parola e a raccontorare non solo la scrittura ma non ne giustaranno i suoi libri per cui ecco per cui ogni bene a tutti noi e sperando di rivederci senza troppe mascherine tra i piedi ma dovessimo rivederci con le mascherine saremmo comunque felici di rivederci arrivederci a tutti e buonasera grazie dico solo due cose brevissime grazie infinite per essere venuti grazie per sostenere questa manifestazione e le manifestazioni in genere è molto complicato ovviamente realizzarle è molto complicato venire oggi però credo sia fondamentale farlo in presenza almeno finché sarà possibile resistiamo 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 insieme a noi resistono i librai e quindi a prescindere adesso da questa sera in generale se potete davvero leggete i libri degli autori andate a comprare in libreria non su Amazon che manco paga le tasse in Italia perché credo sia un buon modo per sostenere la nostra economia che è fatta ma anche di persone che hanno dei presidi di civiltà e cultura in Germania le hanno definite così e credo che sia molto giusta come definizione e che sono i titolari delle librerie ad esempio come Alberto Galla e poi ce ne sono insomma in tante città ovviamente che vanno protette vanno sostenute vanno frequentate quindi grazie per queste due cose che io trovo sempre a Isola Vicentina per quello che ogni volta che fate profumo di carta a meno che non mi succeda proprio qualcosa di brutto ma speriamo di no verrò ogni anno grazie grazie allora due istruzioni grazie ancora a voi a Stefano e a Matteo grazie infinitamente due istruzioni operative dunque si esce di qua quindi vi alzerete in piedi uno le vuole a pian pianino si esce chi acquista il libro si ferma qui e verrà consegnato un coupon per poi scendere giù giù delle scale a destra c'è la firma a sinistra l'uscita adesso avremo ci sono le hostess che vi accompagnano intanto voi accomodate che noi facciamo ah no giusto scusa allora qui abbiamo un dono hai citato prima Stefano Pino Sbalchiero qui dentro è contenuto Pino Sbalchiero con la ristampa di c'era una volta un'isola e una bottiglia dell'esir di China che è un tocco Matteo lo stesso grazie grazie quest'anno abbiamo il partner tecnico vi dicevo prima che produce strumenti di scrittura parlavamo prima dell'importanza del Veneto e tutti Montegrappa penne Montegrappa ci consegna ci regala una penna personalizzata per Matteo struccoli grazie 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 Montegrappa con la penna all'interno chiedono di avere una foto fatta bene con ok personalizzata si si proprio vicino vicino cosa vogliono fare bene grazie grazie potete alzarvi ecco mi raccomando la distanza gli assembramenti eccetera 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 grazie 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 Grazie.